Perché la digital reputation è importante per una startup in crescita? Perché la reputazione non solo digitale non è nient'altro che una percezione che io do alla persona con cui sto parlando, la persona con cui teoricamente deve diventare un mio cliente o magari anche un investitore. Spesso riesco a passare molto bene una percezione anche se non riesco a spiegare tutto quello che condivide il mio mondo e le persone scelgono per percezione, spesso e volentieri. Quindi ottenere la migliore percezione possibile è già un primo importante vantaggio che può portare alla vittoria.